Dottor Talbalaghi, che cosa sta facendo? Stiamo chiudendo i tombini con una rete chiamata Tombini Net, inventato qui e con successo è stato provato in altri luoghi. E questo è un dispositivo molto semplice per evitare che le zanzara tigre, che amano i tombini per ovvi depor e per rileferarsi, di impedire l'accesso alle zanzara che vanno lì e ovvi depor. Si tratta di mettere una rete zanzariera che è di zero costo e semplicemente mettere questo e mettere il tappo sopra il tombino. In questo modo la zanzara tigre non riesce ad entrare ed ovvi depor. Eventualmente se ci sono altre forme di zanzare sviluppate sotto non riescono a fuori uscire. In questo modo riusciamo a diminuire la popolazione di zanzara per essere le abitazioni. Per poter essere più efficace, ebbene puoi mettere una seconda rete a maglia più larga e robusta, così che si incastri tutto al meglio. Dottore, lei quindi ci ha mostrato un metodo semplice ma decisamente geniale per provare a contrastare e proliferare delle zanzare a costo praticamente zero. Ma quando il tombino nel caso si intasa, si sporca, qui c'è un prototipo per esempio. Abbiamo creato questo simulato, questa situazione, qualora ci fosse della sporcizia che sia intasato, che ha intasato i tombini net, lo togliamo, innanzitutto lo puliamo tranquillamente, puliamo e poi la rete lo rimuoviamo per un attimo, lo scrolliamo e lo ripuliamo e lo rimettiamo. Questa è un'operazione che si potrà fare una volta alla settimana, onde evitare che questo tombini net sia intasato. Quindi lei ci sta dicendo che ogni cittadino, nel proprio, nel privato, può davvero mettere in pratica buone azioni senza utilizzare prodotti, larvicidi e quant'altro. È efficace? Assolutamente sì, perché questo viene a seguito di dieci anni di esperienza e è fatto in un'area molto limitata, ma avendo risultati molto incoraggianti lo proponiamo a livello nazionale, anche internazionale, perché questo sistema è un sistema a zero costo, costerà meno di un euro per tombino. Mettendo questo impediamo la proliferazione. Grazie.